ma non abbiamo finito in questo momento per andare a vedere ad esempio nel global e per andare a vedere per andare a caricare andiamo qui scusate che devo trovarlo per andare a vedere tutti quanti gli articoli che abbiamo fatto abbiamo messo qui questa funzione di caricamento no ma abbiamo un altro modo per andare a caricare gli articoli usate non mi vedete ok abbiamo anche un altro modo per poter andare a caricare gli articoli e brevemente è creando un resolve che cosa vuole solo andiamo a farlo così vi risulterà molto semplice andiamo sempre nei nostri servizi andiamo a creare un nuovo file che chiameremo article articles.resolver.service.ts qui facciamo un export class articles.Yeselver implements.no implements.re che parliamo solo che cosa artico risolve ci darà di ritorno gli articoli quindi qui dovremmo creare il nostro servizio article service punti artico si due punti uguale a inject article service ora qui mi dice ovviamente che dobbiamo andare a implementare l'interfaccia eccolo qua questo è il nostro resolve ovviamente abbiamo anche qui l'actività di root snapshot e root state snapshot e cosa facciamo? facciamo un return this.articleservice.getarticles di che cosa? ci serve i parametri di tag che ci allenano questo route route.params tag .pipe perché il pipe ci da un maybe a 5 in realtà qui possiamo dirgli che questo qui è un observable observable niente non ce la posso fare qui facciamo l'observable di article ma questo getarticles se vi ricordate tornava article dto quindi dobbiamo dirgli fare un pipe map result esalt esalt.articles esalt.articles quindi il resolver è fatto a questo punto dobbiamo agganciarlo al global quindi questo è il resolver andiamo nel nostro home page routes nel nostro global qui e quindi anche in questo qui dobbiamo andare ad agganciarci resolve due punti article resolver ma non così dobbiamo dirgli qual è la proprietà perché potremmo averne più di una quindi articles due punti article resolver lo andiamo a definire anche qui perché abbiamo due path andiamo a modificare che cosa c'è qui di sbagliato eh sì mancherà parte di graffa andiamo a modificare dobbiamo dirgli che injectable provided in route ok adesso dovrebbe andare facciamo un reload andiamo a cambiare il nostro global feed qui avevamo questa cosa qui non ci serve più perché? perché i dati ce l'avrà direttamente il nostro il nostro resolver cioè il nostro resolver quando andremo qui farà la chiamata e ci fornirà i dati direttamente eh all'interno dei nel momento in cui faccio la chiamata ok direte vabbè ma ci fai vedere come si fa certo bis activity route che ce l'avevamo già definito prima qui è il data ovviamente non faremo snapshot o data perché il tag cambia come abbiamo visto prima incontreremo sempre lo stesso problema quindi usiamo l'rxgs quindi data questo è un observable di data punto pipe qui faremo un map datas abbiamo importato no è già importato in datas come l'abbiamo definito uff l'abbiamo definito come articles quindi l'abbiamo definito come articles quindi qui articles quindi se io faccio subscribe articles anzi facciamolo ho fatto bene articles article is punto articoli punto set article articles andiamo a vedere ovviamente poi tutte le prime volte non va as article 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 articoli ah perché qui c'è article dto ok ok facciamo così ovviamente qui andiamo a modificare un attimo articoli local e ovviamente se cambio il tag ricarica il tutto vedete ma ce l'ho con il resolver e quindi posso usare il resolver ad esempio se mi serve in altre parti come ad esempio potrebbe essere nella home page quindi la home page no vi ricordate avevamo questo per andare a riempire ad esempio i i taglist ok i taglist era un coppito che andava a prendere questi articoli no e qui avevamo fatto la load andiamo ad agganciarlo dove dobbiamo agganciarlo non certo qui ma dobbiamo andarlo a agganciare qui dov'è dov'è dobbiamo andarlo a agganciare qui eccolo qua quindi component home page virgola andiamo a prenderci dall'altra parte la stessa identica cosa ho messo troppe virgola dobbiamo mettere il resolver a questo punto nella mia home page questo lo cambiamo avevamo già portato la no andiamo a prenderci nel global andiamo a prenderci l'activated ecco qua quindi andiamo questo qui lo andiamo a iniettare lo andiamo a importare e qui andiamo a prenderci esattamente la stessa identica cosa ecco qua andiamo a importare allora qui vediamo un po' qui c'è lo stesso identico problema quindi andiamo a modificarlo ok come vedete funziona quindi possiamo semplificare il nostro codice togliamo via questo article service che non serve più questo destroyer ref non serve più in giro nini tutto questa roba qui possiamo toglierla via e possiamo togliere via anche questo ovviamente qui facciamo così perfetto ovviamente vi ho fatto vedere la versione vecchia andiamo a vedere eccolo qui questa è la versione vecchia attualmente su angle 17 si usa ormai l'avrete capito le function useremo le function quindi export cost le abbiamo chiamato article ok lo vado a prendere da qua due punti resolver fn è un generico e quindi article quadra quadra è uguale ovviamente abbiamo tutte queste cose qui vediamo non ci serve questo pazzo qui l'article service qui lo togliamo riformattiamo il codice andiamo a vedere se continua a funzionare e vedete che continua a funzionare molto più semplice creando una function ovviamente qui questo parametro non ci serve quindi possiamo toglierlo via eccolo qui ultima cosa ultima è vero ci sarebbe un mondo da esplorare però volevo farvi vedere un'altra cosa andiamo a aprire chrome così andiamo a rifare di nuovo la stessa identica cosa volevo farvi vedere da qua nel network andiamo a vedere all andiamo a fare un refresh di nuovo e un 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 e un e Grazie a tutti.